presentazione in grande stile questa mattina a chieti per la nuova casa della pallamano e al taglio del nastro a presente anche la presidente nazionale della coni giovanni malagò ascoltiamolo a pallamano ha scelto chieti è vero mi sento di dire che chieti ha voluto e l'abruzzo ha voluto l'abruzzo cioè non è un caso che siamo qua perché se andate a vedere le fotografie di questo impianto di questa struttura non dieci anni fa ma pochi mesi fa e quello che c'è oggi vi rendete conto che la fiducia data da chieti dall'abruzzo e la federazione sono stati molto ben ripagati perché impressionante in così poco tempo che cosa sono riusciti a realizzare direi che una di quelle scommesse assolutamente riuscite presidente malagò l'abruzzo e lo sport anche la luce dei risultati ottenuti durante le recenti olimpiadi dagli atleti abruzzesi ma l'abruzzo ha una storia una tradizione nello sport in tante discipline sportive che quasi diciamo unica dovuto al fatto che non credo che debba raccontare qualcosa al presidente al mio amico marco marsilio per una solo collocazione geografica ma una realtà in cui teoricamente può far tutto a differenza per carità di altre regioni dove ci può essere qualcosa di più qualcosa di meno ma qui insomma nel raggio di pochi chilometri c'è un concentrato di opportunità di manifestazione eventi che è straordinaria credo che c'è lo stanno dimostrando la volontà non solo di investire ma di interpretare al meglio quello che oggi le aspettative le istanze della popolazione verso lo sport e credo che questo sta succedendo noi siamo molto orgogliosi di questo. Gaia Sabatini che guarda a Parigi 2024? Gaia è una storia bellissima come d'altronde lo è lei come persona l'ho sentita più di una volta l'ho chiamata il giorno dopo che aveva vinto l'europeo e con quelle braccia alzate e soprattutto con quello sguardo al cielo che ricordava il suo papà una ragazza che è molto migliorata e molto cresciuta e è chiaro adesso viene il difficile nel senso viene anche il bello perché sappiamo benissimo quanto tu puoi essere magari la prima in Italia tra le protagoniste in Europa è chiaro a livello internazionale soprattutto l'atletica in mezzo fondo in particolare però Gaia tutto la seguiamo e complimenti una storia bellissima. Il cuore della palla a mano presidente Loria batte forte in Abruzzo. Batte forte in Abruzzo e ci auguriamo che batterà ancora più forte in Abruzzo dopo questa inaugurazione ma soprattutto dopo la partenza del team federale Campus Italia che ha cominciato a lavorare in questi giorni che è presente a questa manifestazione sono tutti i ragazzi selezionati del bienio 2004-2005 dovranno essere speriamo i nostri atleti olimpici del futuro. Una giornata di vero orgoglio per la città di Chieti si apre una stagione per lo sport e per la ripartenza dell'intero paese che parte da Chieti e questo è senz'altro una cosa di cui ci freggiamo il merito dell'assessore Pantalone che ci ha lavorato alla Cremente. Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto questo importante obiettivo, questa sinergia con la federazione italiana palla a mano ci ha portati sia a riqualificare questa struttura sia a portare tanti eventi e tanti altri ne verranno della nazionale maggiore di palla a mano ma anche del progetto Campus Italia. Un grazie particolare al presidente Malagò per aver tagliato il nastro per essere venuto è un orgoglio per noi, è un motivo di grande orgoglio grazie al nostro sindaco, al nostro vice sindaco e alla scuola di governo tutta.